Abbraccetto da sempre, scienza e arte, la prima che chiama la seconda e viceversa. Entrambe sono in grado di dare la vita. A Ruvo di Puglia l'iniziativa culturale celebra con anticipo l'ingresso nel 2022 quando saranno 40 anni di attività del gruppo ITEL, specializzato nel comparto medicale che offre servizi di ingegneria per la sanità, autorizzata dall'AIFA alla produzione e distribuzione di radiofarmaci ed uso clinico. Qui da sempre si investe nel progresso, nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione e anche nell'arte. Possiamo dire che l'arte serve anche a raccontare la scienza? Assolutamente, serve per aggregare perché è un contenitore valido per tutti e poi dentro ci mettiamo anche altri ragionamenti che potremmo fare. Certamente è fruibile. Quasi 40 anni di attività della vostra azienda? Una lunga storia, siamo qui e in qualche maniera stiamo crescendo comunque molto bene e questo ci dà ragione di continuare ad andare avanti con lo stesso credo. È stato un progetto complesso fatto di 100 bozzetti fino alla conclusione dove poi abbiamo realizzato l'opera prima e abbiamo indagato quello che è la linea legata al corpo, il colore legato al corpo e siamo andati all'interno fino a quello che è l'uomo vitruviano. Grazie a tutti! Grazie.